Rieccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Marsala dove i carabinieri hanno tratto in arresto un 39enne. L'uomo è stato sorpreso dagli stessi militari dell'arma mentre rubava cavi di rame. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un 39enne del posto gravato da pregiudizi di polizia per furto di cavi conduttori in rame. I militari dell'arma nel corso di un servizio di pattuglia sul territorio nell'abitato di Petrosino hanno sorpreso il soggetto in via Palma Chianu mentre era intento a tranciare i cavi conduttori in rame della linea telefonica per circa 100 metri lineari con una cesoia poi sottoposta a sequestro. L'uomo tratto in arresto a seguito dell'udienza di convalida è stato sottoposto alle misure dell'obbligo di dimora nel comune di Marsala e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Da Marsala a Siracusa dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto una 41enne il quale è stato poi condotto in carcere. L'uomo infatti deve scontare oltre tre mesi di reclusione per furto. Vediamo tutti i dettagli del servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto un marocchino di 41 anni in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di furto aggravato, reato commesso nel 2017 nel capoluogo Aretuseo e condannato a tre mesi e 27 giorni di reclusione e al pagamento di una multa da 80 euro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere Cavadonna di Siracusa, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Doppio arresto, invece, effettuato sempre dai carabinieri a Spadafora, siamo quindi nel Messinese. Si tratta di due soggetti che i militari dell'arma hanno sorpreso mentre tentavano di rubare autoradio. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Spadafora hanno tratto in arresto un ventisettenne e un trentenne responsabili di furto aggravato in concorso. I due soggetti, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi a rubare autoradio. Nel corso di un monitoraggio del territorio, l'attenzione delle autorità è ricaduta sui due uomini che, in atteggiamento sospetto, erano stati avvistati nei pressi dell'ufficio postale di Spadafora. I sospetti hanno tentato la fuga, gettando per terra una busta con dentro gli attrezzi per lo scasso. Dopo aver bloccato entrambi, i militari dell'arma hanno proceduto a un'ispezione dei luoghi. A conclusione delle indagini è stata rilevata la forzatura di tre auto, all'interno delle quali erano state asportate le autoradio. Lo sviluppo dell'attività investigativa ha permesso di rintracciare l'auto in uso agli indagati e di recuperare all'interno la refurtiva subito restituita ai legittimi proprietari. I due pregiudicati sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Cambiamo argomento, parliamo di calcio. Torna in campo il Palermo che oggi ospita al Barbera il Pisa con l'obiettivo chiaramente di tornare al successo in Serie B. Alla vigilia del match come di consueto ha parlato l'allenatore del Palermo, mister Eugenio Corini. Allora sentiamo alcune sue dichiarazioni. Stiamo vivendo un momento a livello di risultati particolare dovuto a tante considerazioni che ho già fatto e ho già espresso con voi su varie situazioni, vari punti. È normale che quando vai in una dinamica fra virgolette negativa da quel punto di vista lì alcune certezze, alcune cose che davi per consolidato e a cui ti appoggiavi vengono fra virgolette un po' meno. Io penso che il percorso del Palermo sia totalmente diverso dal nostro negli ultimi 4 anni. Bisogna vedere il percorso del Palermo negli ultimi 4 anni e il percorso del Palermo negli ultimi 4 anni. Ora si può pesare da dove arrivano loro e da dove arriviamo noi. Dunque è un punto di impartenza secondo me importante per avere una visione più ampia di quello che magari in maniera diciamo superficiale si possa dire. Noi non ci siamo nascosti sul fatto che vogliamo essere competitivi in questo campionato che vuol dire tutto e vuol dire ambire sempre a cercare di fare il mello ogni partita ma il dato oggettivo è che le ultime 8 partite abbiamo fatto molto fatica perché ne abbiamo vinta solo una. E quando ti capita di non vincere per un periodo mediamente lungo è normale che dentro quella partita un significato dove tra l'altro abbiamo trovato il Palermo da un punto di vista prettamente a prescindere dall'organico, dal valore, dal percorso molto positivo. L'ha certificato la grande prestazione che hanno fatto anche in Coppa Italia con la Fiorentina con un grande entusiasmo. La squadra ha fatto una partita a livello di intensità, di voglia di combattere insieme qualitativa. Sicuramente ci è mancato coraggio su questo. Abbiamo orato in settimana quando avevamo la palla che abbiamo provato a fare delle cose ma non riuscivamo a farle come volevamo farle ma come siamo stati dentro la partita come la squadra ha retto dal punto di vista emotivo e oggettivamente è stata una partita con una fase difensiva molto importante perché se penso a parate importanti di Mirko non ne ha fatte. È vero che sono stati pericolosi, è vero che hanno avuto un predominio, hanno avuto il possesso palla, hanno avuto situazioni molto pericolose e di conseguenza da questa partita mi porto a casa che è stato un passaggio fondamentale visto il momento dove arrivavamo noi, visto il momento che stanno vivendo loro e quando devi scavallare un momento negativo c'è sempre un flusso che devi accompagnare. Noi sappiamo che possiamo fare molto meglio, ne abbiamo una piena consapevolezza ma aver recuperato giocatori non vuol dire che li hai a livello condizionale pronti per giocare a un certo livello per un certo minutaggio e questo percorso va alimentato e sicuramente c'è un rammarico incredibile perché siamo veramente arrivati a un centimetro da una vittoria che sarebbe stata per noi importantissima ma anche che dentro questo percorso di difficoltà vedo quel seme che stiamo gettando per far sì che questa squadra torni a essere quella che ha dimostrato di poter fare inizio del campionato. A Giarre si è svolto un importante incontro al Palazzo di Città, un incontro voluto dal Sindaco Cantarella che ha accolto i sacerdoti del territorio. Vediamo perché. Il Sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella, ha accolto i sacerdoti delle parrocchie ricadenti sul territorio giarrese in occasione dello scambio degli auguri di Natale. Si tratta del primo di una serie di incontri che l'amministrazione comunale intende promuovere per creare una rete di solidarietà sul territorio con il coinvolgimento delle realtà ecclesiastiche che sono parte integrante del tessuto sociale di una città. Nel meraviglioso Salone degli Specchi del municipio di Giarre, il primo cittadino, insieme al Presidente del Consiglio Giovanni Barbagallo e ad alcuni componenti della sua giunta, ha incontrato i parroci intervenuti della principale area ionico-etnea. L'occorrenza è stata un momento per fare memoria delle rispettive responsabilità e progettare insieme un futuro nel quale creare occasioni di collaborazione per far crescere la città e al contempo essere da supporto a coloro che si trovano in difficoltà. L'incontro con i sacerdoti, fortemente voluto dal sindaco di Giarre e coordinato dal suo delegato Salvatore Mancuso, si attesta come novità assoluta da parte di un'autorità cittadina. Un'occasione preziosa per le istituzioni civili e religiose, individuare i bisogni del territorio, soprattutto quelli presenti nelle aree disagiate, avendo come obiettivo il riconoscimento di strategie che possano portare delle risposte ai soggetti più deboli della comunità. È stato il desiderio che ha dato impulso a questo momento di confronto. È la prima volta che avviene una riunione al comune di Giarre con la presenza di tutte le parrocchie e quindi tutti i parroci che ci sono nella mia comunità. È stato un momento anche di riflessione, oltre che di auguri. È un invito alla partecipazione al servizio per i concittadini. Abbiamo fatto anche un momento di riflessione assieme a loro, saremo presenti nelle parrocchie, sia io che la Giunta, per incontri con i cittadini, ma non ci sarà solo questo, ma ci saranno anche, credo, delle manifestazioni di tipo sportivo. Ma dobbiamo anche vedere come possiamo intervenire ed incidere ancora di più sul sociale, sulle famiglie che sono meno fortunate rispetto a noi, o su individui singoli che possono avere delle necessità, non avendo il coraggio di chiedere. È un'esperienza sicuramente nuova, che ci apre ad un'esperienza sinodale anche nel territorio. Si ha bisogno sicuramente di vita nelle parrocchie sempre di più, però con un'idea un attimo più agile delle parrocchie, quindi anche del senso di appartenenza, evitando i campionerismi, lavorando un attimo con un noi più leggero e più ampio, quindi collaborando anche tra giare riposto, vedere anche le altre cittadine vicine. Questo significa prendere consapevolezza di ciò che c'è capillarmente presente nel nostro territorio, senza appoggiarci semplicemente dalle tradizioni, ma utilizzando anche nuove scelte che arrivano dai nostri incontri. Chiaramente questo ci permette di pensare anche agli incontri come un nuovo Pentecoste, perché negli incontri sempre ci sono delle domande che non riusciamo a farci. A livello sociale veniamo a conoscenza anche delle difficoltà o di opportunità che altrimenti li verrebbero nascoste e le proposte ci permettono di confrontare anche le richieste e le necessità che abbiamo. Il Natale si avvicina e si preparano anche gli abitanti della contrada di campagna Mastrissa, contrada di Taormina. Li ha incontrati Mauro Romano. Assessore Gionata Sfera, oggi ci troviamo a Mastrissa alla famosa Curva Rossello. Cosa ha preparato l'amministrazione comunale per questa contrada così importante? Sì, oggi insieme con i cittadini di Mastrissa abbiamo appunto terminato l'albero di Natale che è stato posizionato qui alle nostre spalle, dove abbiamo incrementato oggi con dei ciclamini e stelle di Natale. Saranno fatti diversi eventi e quindi non vediamo l'ora di respirare quest'aria di Natale anche qui a Mastrissa, così come abbiamo realizzato anche su Bruteri e le altre contrade. Il signor Mario Entelisano, cosa rappresenta per i cittadini di una contrada come quella di Mastrissa il Natale? È un momento di incontro innanzitutto, un momento di dialogo, di incontro, di scambio di idee. Abbiamo bisogno della comunità sempre, per cui abbiamo bisogno della vicinanza anche del nostro comune. Per fare questo ci aiutiamo con l'aiuto a volte delle amministrazioni, ci abbiamo anche quello che ringraziamo e nello stesso tempo riusciamo a fare delle cose molto belle, delle cose carine che la gente apprezza. Parliamo sempre di qualche centinaia di persone che ci fanno visita, facciamo un po' di spettacolo con quello che si può fare nei limiti nostri e continuiamo su questa cosa che da vent'anni funziona e speriamo di farlo funzionare sempre con l'aiuto di tutti. Cesare Strazzeri, Presidente dell'Associazione Amici delle Contrate, sarà realizzata una manifestazione molto importante nei prossimi giorni. Ecco, di che cosa si tratta, Presidente? È da vent'anni che a Mastrista in questa zona facciamo il falò organizzato dei cittadini. Diciamo in più che anche da vent'anni tutti i cittadini delle Contrate fanno dei presepi che veramente sono delle opere d'arte. Giorno 18 avranno anche in questa zona vedere i presepi gli anziani di Taormina, in modo tale da fare vedere che nelle Contrate c'è un po' di allegria, un po' di spettacolo e quindi siamo ben lieti che chiunque vuole venire può venire. Giorno 16 accendiamo il falò, facciamo una piccola manifestazione, quindi siamo ben lieti di invitare tutti voi, anche l'amministrazione e tutti i cittadini. E chiudiamo con una notizia di cronaca che arriva da Caltanissetta dove è scattato il foglio di via obbligatorio per 15 attivisti. Vediamo tutti i dettagli del servizio. Il questore di Caltanissetta ha emesso 15 provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di altrettanti attivisti. Lo scorso 14 novembre, in occasione del trasferimento di alcuni cittadini stranieri irregolari trattenuti al CPR di Pian del Lago per il successivo rimpatrio, un gruppo di 17 attivisti aveva bloccato il pullman della Polizia di Stato lungo la strada provinciale 5 nella periferia di Caltanissetta. Due di essi, dopo che il gruppo di manifestanti aveva occupato la carreggiata, si era anche incatenato sotto il mezzo impedendo la prosecuzione della marcia. Sul posto erano intervenuti diversi equipaggi della Polizia che avevano condotto i manifestanti in questura, consentendo al pullman con gli stranieri di riprendere regolarmente la marcia fino all'aeroporto. I 17 attivisti erano stati identificati, 12 di nazionalità italiana e 5 straniera, alcuni gravati da pregiudizi di polizia denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e manifestazione non autorizzata. Il questore, nei confronti dei 15 attivisti non residenti a Caltanissetta, ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel capoluogo nisseno per un periodo di tre anni. Nei confronti dei due residenti a Caltanissetta, invece, il questore ha emesso l'avviso orale a cambiare condotta. Per il momento è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. A più tardi. Grazie. Grazie a tutti.